Il Ministro Bonafede ha annunciato un suo emendamento alla legge che si chiama Spazza Corrotti, le leggi ormai hanno questi nomi fantasiosi, c'è la Spazza Corrotti, c'è la Sparai Ladri, ha annunciato un emendamento per introdurre in questa legge l'abolizione della prescrizione dopo il primo grado, capiamo cosa vuol dire? Vuol dire che concluso il primo grado, qualunque sia la sentenza e anche in caso di sentenza di assoluzione che dovrebbe in teoria chiudere il capitolo in quasi tutte, in moltissime comunque legislazioni dell'Occidente, il PM non può ricorrere in appello, in appello è un diritto della difesa, ma lasciamo stare comunque, dopo il primo grado, qualunque sia stata la sentenza, non c'è più la prescrizione, questo cosa vuol dire? Non darà un grande sollievo alla giustizia, perché dovete sapere che le prescrizioni nel 75% dei casi, o 70%, adesso non ricordo perfettamente, scattano in fase di indagini preliminari, la stragrande maggioranza delle prescrizioni scatta in fase di indagini preliminari, una fase nella quale fra l'altro gli avvocati non hanno quasi voce in capitolo, quindi gli avvocati non c'entrano niente con la prescrizione, con la gran parte delle prescrizioni, quindi tutte queste restano, non si possono cambiare perché vengono ben prima delle sentenze del primo grado e quindi il carico, l'ingolfamento della giustizia non verrà molto corretto da questa decisione. Succede però che se superi il primo grado entro gli anni dovuti, cioè prima che scatti la prescrizione, il processo può andare avanti all'infinito, all'infinito vuol dire all'infinito, perché già oggi la prescrizione è piuttosto lunga, per i reati più piccoli, proprio quelli piccoli piccoli, la prescrizione è di 7 anni, il minimo è 7 anni, voi capite 7 anni per un processo non sono pochi, per i reati più gravi, quelli che prevedono pene massime di 10, 20, 30 anni, per esempio stupro, omicidio, ma anche i reati di corruzione che prevedono pene altissime, arrivano fino a 15, 20 anni di pena massima, la prescrizione arriva oltre i 20 anni, 20, 25, 28, 30 anni, non so se ci rendiamo conto, quindi il processo può durare 20 o 30 anni, io potrei essere assolto in primo grado, potrei essere assolto in primo grado, quindi ragionevolmente sono innocente, perché se non altro c'è un ragionevole dubbio sulla mia colpevolezza una volta che sono stato assolto, invece si va avanti e si può andare avanti 30 anni, 30 anni, un signore di 50 anni può essere condannato dopo essere stato assolto in primo o in secondo grado, magari alla fine si rifà, si rifà, si rifà dopo 30 anni, dopo 35, quanti si vuole, non c'è più prescrizione, quindi che cosa succede? Succede che non ci sarà un grande vantaggio per la giustizia, ma ci sarà un allentamento dei tempi, perché? Perché se oggi il magistrato ha fretta di concludere il processo se incombe la prescrizione, cioè se dopo il primo grado, il secondo, il terzo, entro 3-4 anni scatta la prescrizione, i magistrati devono un po' affrettare perché se no il processo va in fumo, adesso non hanno più questo problema e possono allungarlo quanto vogliono, quindi i processi che oggi mediamente sono di 7, 8, anche 10 anni, ma anche molto di più naturalmente, si allungheranno ulteriormente, i tempi della giustizia si allungheranno, la giustizia non ne avrà nessun vantaggio e non si capisce quale… Voi mi dite, ma allora perché viene fatto questo? Ma io credo fondamentalmente per due ragioni, uno perché la magistratura vuole più potere e il fatto di non avere la prescrizione, quindi quando impugni un imputato lo puoi tenere nel pugno per anni, per anni e per decenni, aumenta di smisura il potere della magistratura, il potere fisico della magistratura, c'è un pezzo di magistratura che questo potere fisico ci tiene, andrà in pensione poi il magistrato, in pensione molto prima il magistrato, prima che scatti la prescrizione, perché la prescrizione non scatta, quindi andrà in pensione, però ce l'ha ancora in pugno. L'altro motivo è il solito, è il motivo di propaganda, abbiamo abolito la prescrizione, finalmente giustizia in questo paese, non è vero, non avrà nessun vantaggio. Detto ciò, io vorrei, perché magari qualcuno lo conosce, leggervi mezza riga dell'articolo 111 della Costituzione Repubblicana, che recita così, la giurisdizione si attua mediante il giusto processo riguardo la legge, la legge ne assicura la ragionevole durata, quindi la legge deve assicurare che il processo non duri più di tanto, l'emendamento che abolisce la prescrizione assicura che il processo può durare più di tanto e quindi oltretutto è un emendamento incostituzionale.